buona giornata amici da massimo foghetti oggi è lunedì 20 dicembre 2021 iniziamo la l'ultima settimana prima di natale una settimana da vivere intensamente vedremo poi come andrà il tempo in questi sette giorni non è un tempo eccezionale però insomma noi ci riscalderemo con l'atmosfera di natale questa mattina il sole sorge alle 7 e 38 e tramonta alle 16 e 32 oggi è san liberato un santo che visse all'epoca dell'impero romano forse il suo nome era più propriamente liberale fu un martire romano visse nel terzo secolo era console si fece cristiano rinunciando alla sua attività politica però venne arrestato e condannato a morte sotto il regno di un imperatore quasi sconosciuto ovvero claudio il gotico fu sepolto sulla via salaria e più tardi e nella sua tomba fu eretto un mausoleo che fu poi restaurato nel corso dei secoli e diamo ora un'occhiata alle condizioni del tempo e vediamo come ancora per oggi insomma sulle marche si mantiene un tempo buono ma insomma le condizioni stanno peggiorando un aumento delle nubi entro il pomeriggio sino a cieli irregolarmente nuvolosi venti meridionali le massime tra i 10 e i 12 gradi la minima sui 4 gradi le temperature sono sempre in calo e i venti ispirano da ovest detto questo abbiamo subito abbiamo subito i giornali questa mattina oggi è lunedì e possiamo partire dunque dallo sport e vediamo come la domenica sportiva è andata bene per il fano calcio ma male per le squadre pesaresi la vis fa tremare l'ancona ma è solo una tremarella perché poi l'ancona prevale con un risultato secco sui biancorossi 3 a 1 la vis fa tremare l'ancona in titola oggi il corriere adriatico rossi riapre una partita che sembra ormai chiusa e a tempo scaduto de respinis fallisce il 2 a 2 bella prova di carattere di farroni e compagni che però in difesa stavolta hanno sofferto troppo afferma il giornale una lezione di agonismo e l'analisi del tecnico vissino banchini i loro giocatori andavano su tutti i palloni e facevano fallo comunque siamo stati sempre in partita si consola il tecnico tra errori e buone cose alla fine l'ancona ha meritato la vittoria ovviamente insomma il risultato non desta così discussioni giriamo ancora le pagine troviamo quella che riguarda il fano calcio dove un risultato importante soprattutto per la posizione in classifica viene evidenziato fano 3 fiuggi 0 questo è il risultato finale fano un'occasione sfruttata al mancini si sbarazza senza problemi di un fiuggi decimato dopo le gravi vicende giudiziarie Tortori segna una doppietta e spiana subito la strada nel primo tempo il trisse calato da variali che segna appunto il terzo gol bravi a non rischiare mai è il commento del tecnico Raimondo Catalano che da alcune partite pochissime partite gestisce la squadra Catalano ottiene la seconda vittoria consecutiva ed elogia la squadra avevamo tutto da perdere i ragazzi hanno dato una prova di compattezza un altro risultato positivo mercoledì sarebbe perfetto e mercoledì si gioca di nuovo comunque due risultati positivi sei punti in due giornate sono preziosi per la squadra fanese invece per quanto riguarda la VL vediamo che il risultato non è stato soddisfacente infatti vediamo un attimo se troviamo la pagina eccola qua vediamo che il risultato è stato inclemente per la squadra pesarese peccato VL il poker sfuma fil di sirena VL Pesaro 69 un Hotels 72 è la chiusura di questa partita sfavorevole appunto per la squadra pesarese ed ora passiamo alle notizie di cronaca a partire dal Corriere Adriatico vaccini si accelera sui bimbi e il risultato la sintesi della prima pagina crescono le richieste dei genitori per i bambini e i pediatri si organizzano in proprio negli ambulatori e in gruppo negli hub e c'è un'imponnata soprattutto di contagi il primario Frausini non nasconde i timori ed esorta anche alle tradizionali precauzioni vedremo poi come Frausini ha fatto queste dichiarazioni in piazza 20 settembre ieri a Fano e qui abbiamo una fotografia drammatica un crollo di una rimessa di un'ex carrozzeria che si è verificato nel quartiere di Pantano a Pesaro e poi la politica i 5 Stelle entrano in maggioranza nel comune di Pesaro unità con Ricci Forza Italia invece piazza in provincia ieri ci sono tenute le elezioni provinciali due eletti il Movimento 5 Stelle resta escluso giunta a Quaroli promesse a vuoto ma chirurgia al top ad Urbino e poi l'articolo di Sport che riguarda la VL a fondo pagina lo vediamo qua VL beffata sulla sirena una rimonta senza il poker Reggio Emilia vince ma all'ultimo giro così la Final 8 di Coppa Italia si allontana per appunto il basket pesarese oggi il ritorno in giallo di tutte le marche con allerta prepararsi all'aumento dei ricoveri negli ultimi tre giorni il covid corre a Pesaro oltre che a Dancona e a Fermo e torna l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto attenzione dunque alle regole e vediamo quali sono le regole principali della zona gialla che dovremo osservare la differenza fondamentale è che bisogna indossare la mascherina all'aperto indipendentemente dalle ordinanze in vigore nelle varie città lo spostamento verso altre regioni con il proprio mezzo è sempre consentito indipendentemente dalla fascia di colore con o senza Super Green Pass per mangiare nei bar e nei ristoranti serve il Super Green Pass senza o con Green Pass base la consumazione è possibile solo all'aperto quindi bisogna avere questo documento per quanto riguarda lo sport invece non cambia nulla per praticare attività fisica all'aperto o al chiuso dove però sarà necessario mostrare il Green Pass base nelle palestre e nelle piscine insomma non cambia poco o nulla l'accesso a stadi e a palazzetti invece è consentito solo con il Super Green Pass per quanto riguarda invece le scuole e l'università sono aperte in presenza al 100% in università l'ingresso è consentito solo con il Green Pass base e poi sono aperti i teatri, cinema e le discoteche si accede con certificazione verde rafforzata con capienza al 100% e per quanto riguarda invece la disponibilità di personale che è un aspetto sempre critico per quanto riguarda l'assistenza sanitaria vediamo oggi una dichiarazione di Andrea Giacometti è un civita novese a 65 anni ed è direttore della clinica di malattie infettive degli ospedali riuniti di Torrette infermieri i rinforzi tra 20 giorni dose scaduta arrivano più anziani l'ipotesi vaccino ogni 4 mesi invece dei 9 mesi che dura il Green Pass e per quanto riguarda le doppie dosi la terza dose insomma bisogna fare un vaccino ogni 4 mesi per rinforzare le difese immunitarie secondo il virologo nuovi ospedali e sollievo RSA nel 2022 il focus è sulla sanità soldi per Pesaro per il progetto definitivo di Macerata e lo studio per San Benedetto Castelli nonostante l'incertezza dei conti statali un preventivo con scelte importanti ha dichiarato appunto Guido Castelli per quanto riguarda la proposta di legge relativa alla manovra finanziaria appunto per dare soldi alla sanità e Marche Nord è sotto pressione usiamo tutte le precauzioni e difendiamoci con il vaccino vedete questa pagina? questa pagina è dedicata all'iniziativa di Marche Nord che ieri ha fermato un camper in piena piazza 20 settembre a Fano fornendo informazioni e vaccinando tutti coloro che volevano appunto assumere il vaccino sono state 65 le persone molte delle quali hanno fatto la terza dose alcune anche la prima dose questo è un risultato che ha evidenziato lo stesso primario del reparto di medicina di Marche Nord Gabriele Frausini con soddisfazione mentre 100 persone hanno chiesto informazioni vedete qui il camper che si è fermato in piazza 20 settembre qui vediamo invece i medici Frausini il dottore Carlotti che è responsabile del dipartimento di prevenzione vediamo anche il sindaco di Fano Massimo Seri insomma una iniziativa importante che ha fatto un po' il quadro della situazione pensate che ieri ieri a Marche Nord i ricoverati per Covid erano 81 16 erano in rianimazione 24 in subintensiva 17 in medicina Covid 13 in pneumologia Covid 7 in malattie infettive 4 in sala parto in totale Pesaro assorbe il 39,7% di tutti i ricoverati della regione Marche e questo ha fatto sorgere anche una domanda perché tanti vengono da altre province a ricoverarsi a Pesaro e ce ne sono molti anche a Galantara cresce la fiducia dei genitori per quanto riguarda la vaccinazione dei bambini il siero verrà somministrato anche in ambulatorio dai pediatri i quali si organizzano in proprio e in gruppo per la dose ai bambini giriamo ancora le pagine e vediamo il crollo che si è verificato a Pantano un'ex carrozzeria crollata appunto nel quartiere i residenti dice adesso rimuovete tutte le macerie la richiesta è di chi vive nella zona fatta a nome appunto di residenti dal segretario del PD locale Cavallo si tratta appunto di un esponente politico Giuseppe Cavallo segretario del PD di quartiere lo ha fatto insieme a Giovanni Del Monte consiglieri di quartiere che hanno raccolto le richieste dei residenti siamo all'angolo tra via Pantano e via Trometta poco dopo avere svoltato la rotatoria finale di via Giolitti insomma è un problema però questo che è accaduto a Pantano dopo le tragedie che si sono verificate in altre parti d'Italia vi ricordate i nove morti che sono accaduti per lo scoppio di una bombola di gas e poi il crollo della gru insomma sono veramente delle disgrazie dei drammi che si sono verificati in questi ultimi giorni ovviamente questo non è da paragonare con quello che è caduto altrove però le immagini sono molto molto significative i cinque stelle in maggioranza in maggioranza nel comune di Pesaro un articolo che riguarda l'ultimo consiglio comunale dell'anno che ha così insistito e ha verificato il DUP e il bilancio di previsione per il prossimo triennio la linea Conte il Movimento 5 Stelle ufficializza l'ingresso in maggioranza e vota favorevolmente al bilancio c'è una unità di intenti con la giunta Ricci il giorno del bilancio della maggioranza di Ricci che si allarga ai 5 Stelle ma il PD perde Carlo Rossi ultima seduta del consiglio comunale dell'anno sarà anche l'ultima nella sala Pierangeli della provincia visto che come anticipato dal presidente Perugini e dall'ufficio di presidenza a gennaio si tornerà nella rinnovata sala consigliare di piazza del popolo cosa che invece non viene in altri comuni dove ancora si continua ad usare locali di risulta e poi vediamo che siamo a Vallefoglia a Vallefoglia anzi diciamo meglio questo è un articolo che riguarda Forza Italia Forza Italia esulta perché perché ha eletto due consiglieri nel consiglio provinciale sette consiglieri vanno al centro sinistra in provincia resta fuori il movimento 5 Stelle al resto del centro destra tre rappresentanti che cosa è accaduto è accaduto che c'è stato il rinnovo del consiglio provinciale e vediamo Maurizio Gambini che è andato in testa lo vedremo poi anche nelle altre pagine dei giornali e il consigliere che ha ricevuto più voti insomma Forza Italia esulta e si pone un po' al centro della coalizione di tutti i partiti che appartengono al centro destra mentre il congresso provinciale del partito democratico ha eletto Rosetta Fulvi segretaria Fulvi nuova segretaria provinciale il progetto un PD in cui credere era la candidata unitaria l'obiettivo è quello di ricucire lo strappo per le amministrative del 2024 insomma una un nuovo incarico per Rosetta Fulvi che si appresta insomma a riorganizzare il partito in vista delle prossime elezioni amministrative che si terranno appunto nel 2024 a Urbino regione promesse non mantenute ma in ospedale i servizi funzionano e la CISD con il suo rappresentante della funzione pubblica della sanità Dalibur Cveic che dichiara e soprattutto difende reparti e personale dell'ospedale ducale stanno facendo la differenza ha dichiarato la chirurgia opera tre volte a settimana la sanità pesarese è in grosse difficoltà non si può negare però ci sono dei reparti che funzionano appunto come quello Urbinate ha dichiarato il rappresentante dei lavoratori a Fano si è tenuto sabato scorso l'Oscar delle Bocce che è tornato a casa dopo la mancata organizzazione del 2020 causa covid e dopo che quella precedente si era tenuta a Roma è stato ospitato nel teatro della fortuna il premio nazionale nato a Fano 40 anni fa grazie a Corrado Tecchi e hanno presenziato a questa iniziativa tutti i rappresentanti del GOTA del settore delle Bocce un settore che ha tanti campioni e ne ha alcuni anche tra i disabili perché tra loro c'è anche questa possibilità di farsi valere da chi è meno mato camminava vicino ai binari due agenti salvano un anziano si tratta di un ottantenne originario dell'Albania ma residente da diverso tempo a Fano assieme alla sua famiglia era stato assistito e accompagnato a una distanza di sicurezza dalle rotaie dopo che con la sua bicicletta non si era accorto del pericolo che stava correndo e poi qui abbiamo invece un articolo che riguarda l'approvvigionamento dell'acqua della risorsa idrica non si usino i pozzi profondi per alimentare gli acquedotti e l'appello ai sindaci del gruppo Progetto Acqua contro la pianificazione dell'ATO che è l'autorità d'Ambato qual è il problema? tutti sanno che la pressione del pozzo di Burano è passata da un valore di oltre 30 atmosfere originarie a 20 atmosfere d'oggi i pozzi profondi sono risorse limitate e si stanno via via esaurendo in tutto il mondo quindi bisogna prestare particolare attenzione nel fare i prelevamenti perché poi si esauriscono e allora questa grande risorsa importante risorsa idrica viene a finire i Babbi Natale in bicicletta per la mobilità sostenibile ieri in piazza 20 settembre hanno riempito con i loro colori con le loro tute rosse i Babbi Natale che hanno partecipato a questa iniziativa una bella macchia di rosso la bicicletta al posto della Renna ha attraversato ieri mattina le vie del centro storico a Fano piazza 20 settembre andata e ritorno era il percorso della pedalata per i Babbo Natale edizione 2021 che ha richiamato almeno un centinaio di persone riasfaltate tutte le strade nel comparto produttivo a San Lorenzo in campo prosegue in questo comune la ristrutturazione delle vie San Demetrio e Vittorio Emanuele secondo poi abbiamo anche altre vie ve le diamo qui nel centro storico e l'asfaltatura in zona Miralbello insomma un intenso programma di lavori per quanto riguarda anche il prossimo anno a San Lorenzo in campo urta un'auto ferma e causa una fuga di gas nello schianto in via Fossa a Sant'Orso a Fano danneggiati anche la recensione di un'abitazione e un lampione una via stretta che purtroppo ha causato questo incidente e vediamo anche le notizie a Senigallia manovre anti-covid delle famiglie vacanze anticipate per gli allunni da oggi i vaccini per gli under 12 clown a lab diminuiscono i positivi e quarantene tra gli scolari calano positivi e quarantene a scuola stando all'ultimo report diffuso ieri dall'Azur al Comune ma ci sono classi ancora in DAD preventiva che non compaiono tra i dati insomma la situazione anche qui è incerta e non bisogna dormire sugli allori vediamo anche quello che dice oggi il resto del Carlino vediamo la prima pagina ex case popolari sette indagati si tratta di appalti fuori controllo la procura chiude un'inchiesta accusando funzionari editte di connivenze e falsi poi vediamo che il papà di Valentino Rossi Graziano è stato ricoverato all'ospedale Santa Croce di Pes Santa Croce di Fano per dei problemi cardiaci sottoposto a TAC le condizioni sono buone ma resta ricoverato in neurologia focolaio a Covid a Fossombrone Galantara apre 20 posti in più e le marche da oggi di nuovo in giallo ecco le regole le abbiamo viste prima a Marotta un litigio al bar uno sconosciuto accoltella un cliente e poi in bici sui binari l'anziano treni bloccati per 15 minuti per consentire alle forze dell'ordine di raggiungere l'anziano e di metterlo in sicurezza e poi la vittoria del Fano Calcio tre sorsi di fiugi come per dire tre sorsi di acqua di fiugi ma in realtà sono tre gol vittoria in cassaforte per i Granata focolaio covid a Fossombrone Galantara apre altri 20 posti letto 6 pazienti su 18 sono risultati positivi un dato veramente allarmante questi saranno trasferiti nella struttura di Trebbio Antico che verrà estesa un altro modulo dunque da 20 posti si rende necessario per Galantara che ieri ospitava 50 dei 97 anziani covid positivi di tutte le marche e così ha esaurito la capienza anche perché almeno la metà degli ospiti proviene dal sud delle marche nel contempo si è creato un problema appunto a Fossombrone l'altra struttura dell'Azur pulita dove è emerso un focolaio di ben 6 pazienti su 18 risultati positivi i ricoveri ci mandano in giallo ma senza Novax sono meno della metà nuove regole in vigore da oggi ci sono 204 pazienti negli ospedali che sarebbero 84 considerando solo coloro che hanno ricevuto le dosi ovviamente sono i Novax che si ammalano a costituire la differenza i ladri sul San Bartolo sono diversi giorni che i furti si ripetono nel Pesarese soprattutto a Pesaro vengono svaliggiate delle villette in assenza ma anche in presenza di proprietari questa volta i furti non sono andati bene per i malviventi due ville nel mirino in un caso sono riusciti a forzare la porta e a rubare qualche oggetto d'oro cercavano la cassaforte ma non l'hanno trovata si tratta di una villa sul San Bartolo nei pressi del convento delle Suore qui appunto hanno rubato alcuni oggetti d'oro ma sembra di scarso valore non c'erano soldi un altro furto è stato compiuto in una villa poco lontana da quella colpita si trattava della casa al civico 20 ma in questo caso il proprietario ha visto in diretta gli intrusi dalle telecamere a raggi infrarossi e ha chiamato subito il 113 per cui i malviventi sono scappati a gambe levate qui vediamo la foto invece del papà di Valentino Rossi sorridente ne ha ben d'onde perché pur essendo ricoverato al Santa Croce di Fano come abbiamo detto non versa in cattive condizioni e Valentino segue l'evolversi delle condizioni del suo papà mentre si trova in montagna con la sua compagna segue appunto il decorso ospedaliero e qui vediamo l'esito delle elezioni in provincia provincia Gambini vola sull'asse di Forza Italia Partito Democratico Movimento 5 Stelle il sindaco d'Urbino arriva primo suscitando il mal di pancia tra i dem ducali perché sono all'opposizione ovviamente in consiglio anche i leghisti di Carloni non ce la fa invece la grillina Ferri e vediamo qualche risultato appunto di queste elezioni che non sono elezioni al vasto raggio ma votano soltanto i consiglieri comunali ebbene Maurizio Gambini sindaco di Urbino raggiunge i 6.477 voti seguito da Mauro Dini da Mauro Dino scusate sindaco di Lunano con 6.367 da Massimo Seri terzo classificato sindaco di Fano 6.107 e da Chiara Panicali consigliere comunale di Peso l'attuale vicepresidente della provincia in forza al Partito Democratico con 6.030 il sindaco di Mondavio Mirko Zanobi giunge in quarta posizione con 5.663 e poi tutti gli altri vediamo anche qualche altro candidato della seconda lista dove prevale Domenico Carboni consigliere comunale di San Costanzo seguito da Enrico Rossi che è il sindaco di Cartoceto bilancio ricco lo votano pure i grillini l'ingresso in maggioranza è ufficiale questo è l'articolo che evidenzia appunto come c'è un rafforzamento della maggioranza nel Consiglio Comunale di Pesaro ci chiudono l'attività per Natale sono due fratelli due fratelli i fratelli traiani li vedete qui nella foto che gestiscono un distributore di carburante nella Nazionale Adriatica tra Fano e Pesaro purtroppo Lenin non gli ha rinnovato il contratto e così termina una gestione tradizionale pluriennale che insomma serviva ai clienti in questo tratto di strada e poi litica al bar accoltellato al collo caccia all'uomo a marotta da parte dei carabinieri il ferito aveva difeso la barista ora è in ospedale a Torrette e concludiamo la nostra rassegna stampa con la corsa di Babbi Natale per riaccendere tutte le speranze una corsa che si è effettuata tra quattro municipi di terre roveresche Barchi Orciano San Giorgio e Piagge ebbene questa era l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento domani alle ore 7 buona giornata grazie a tutti grazie a tutti